Forse non mi pongo così tanto questa domanda, mi interessa l'arte in generale, quindi mi piace attraversarla. La vivo in maniera trasversale, non sento una necessità forte di avvicinarmi alla tradizione o a qualcosa di più contemporaneo, ma desidero scegliere in maniera libera di incontrare. Ho la tradizione intesa anche come forse le volte tecnica, ma poi mi piace saltare oltre.